Vi assicuro che è uno spettacolo che fa emozionare, ho ascoltato prima le prove, è veramente uno spettacolo che lascia, come appunto dice stesso la scheda all'intesa del spettacolo, un segno nell'anima che racconterà delle metanoposi di un video. Nel frattempo scopriamo la bellezza di questo luogo prima attraverso un'introduzione storica della collina e quindi del castello di Cicara, purtroppo spesso mal raccontata e poi faremo un giro per una piccola parte del castello, poi ci divideremo in due gruppi, una parte per chi vuole appunto potrà andarsi ad affacciare per il bel vedere dell'area nonana ma non solo anche quella sanpaolese fino a tutto ciò che poi appunto riesce a vedersi e una parte entrerà con me in chiesa per raccontarvi di un bellissimo politico che in parte è stato appunto esposto l'anno scorso sempre dall'associazione Meridius e dall'assessorato svegli culturali e che si trova conservato ai cappuccini. Questa sera a guidarvi sarà a Mariano, io vi auguro una buona visita, vi raccomando di restare con noi anche poi dopo perché oltre allo spettacolo ci sarà anche poi una degustazione di vino e di prodotti che questa sera vi risparmiamo il rumano messa appunto a disposizione dall'associazione Sentieri e Sapori, quindi vi invito a restare per tutta la serata con noi, diciamo che poi ci riscalderemo con le belle cose che sentiremo e che vedremo. Buona serata